Andremo a ricreare l'esperimento di Hertz, da cui Marconi prese spunto per verificare la propagazione delle onde. Dentro alla teca è racchiusa un macchinario con un alimentatore, un rocchetto di Rumford. Lavorare come Guglielmo Marconi tra fino a 800 e inizio a 900, con lo stesso tipo di strumenti e riproducendo alcuni degli esperimenti fondamentali per le sue scoperte. È l'esperienza fatta da una ventina di studenti del liceo scientifico Marconi del Pino di Chiavari, oggi pomeriggio la società economica, dove da domani sarà aperta una mostra con le apparecchiature che usava Marconi. Diciamo in questa sezione, oltre a essere comunque tutti oggetti originali, possiamo vedere appunto il coesore e il campanello. Un'esperienza di arricchimento per i ragazzi e le ragazze, sia dal punto di vista storico che scientifico. È bello potersi confrontare, comunque vedere gli esperimenti, che un ragazzo che all'epoca era praticamente un nostro coetaneo tra i 20 e i 21 anni, aver fatto tutti questi esperimenti, aver posto le basi per i nostri apparecchi telefonici come la televisione, comunque la radio, è motivo di orgoglio per noi. Credo che la fisica sia comunque una disciplina che non bisogna solo studiare, ma è anche diciamo interessante vedere la sua applicazione pratica e questo progetto mi ha permesso di approfondire anche l'elettromagnetismo, che è un argomento che stiamo studiando a scuola, e comunque vedere un'applicazione sia sul territorio ma anche alla quale è dedicata appunto la nostra scuola, in quanto faccio parte del liceo Marconi del Piro. La mostra con il cuore e il pensiero oltre l'orizzonte, Guglielmo Marconi e la nascita della radiotelegrafia, sarà inaugurata giovedì 11 aprile alle ore 17, sarà poi visitabile fino al 21 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 e 30 alle 19. Allora, questa è una riproduzione della casa di Marconi, Villa Grifone, nella campagna bolognese, dove appunto ha condotto il primo esperimento di, possiamo già chiamarlo, telegrafia. Invece questo altro esperimento, che viene fatto, diciamo una scoperta fatta da Calsecchi Onesti, e infatti durante una notte di temporale lui scopre che le polveri di ferro, in presenza di un fulmine, diventano conducibili. Poi Marconi recupera questa idea creando il coesore, che è questo oggetto.